Uno può condividere o meno questo provvedimento, noi come avete capito lo contrastiamo fortemente però che i cittadini non sappiano che in Parlamento si discute un tema di questo tipo penso sia un fatto molto grave e utile a democrazia che la gente sappia cosa il Partito Democratico sta decidendo.